Il nostro modo di lavorare, il nostro modo di vivere oggi sta diventando sempre più flessibile. Ad esempio siamo sempre connessi, possiamo utilizzare i nostri terminali in qualsiasi situazione. Ecco, questa flessibilità proprio richiede di ripensare l'architettura che ci sta attorno. Allora in questo progetto abbiamo proprio cercato di partire dall'idea di flessibilità per portarla all'estremo. Una stanza che può assumere infinite configurazioni diverse, ma badiamo bene non configurazioni diverse predefinite, ma configurazioni diverse che nascono da un'interazione proprio con l'utente e con la persona che l'abita.